Mi dispiace signora, bisogna cambiarlo. E adesso dove lo compriamo il nuovo? Non si preoccupi, la porto da GT in Raurica. Bene, signora, dia un'occhiata allo showroom. Ancora nessun acquirente per l'area dell'ex Cofima. Dopo che anche la quinta gara indetta dal comune di Cava dei Tirreni è andata deserta, da Palazzo di Città è stata indetta una nuova asta pubblica per l'area ubicata nei pressi dell'uscita autostradale della città metelliana. La novità è che l'importo a base d'asta, inizialmente fissato in 5.300.000 euro, già ribassato del 5% rispetto alla stima iniziale in occasione della quarta e quinta indizione di asta, è stato ulteriormente ribassato del 2,5%. Pertanto il nuovo importo posto a base d'asta è stato fissato in 4.664.000 euro. Anche se l'intera consistenza immobiliare attualmente risulta in pessimo stato di conservazione, tuttavia ha delle enormi potenzialità, essendo ubicata in una posizione strategica della città e con una destinazione urbanistica di 4, che quindi può essere industriale ma anche terziare e commerciale. L'area, acquistata dall'amministrazione Galdi nel 2010 dal Tribunale fallimentare per 3.400.000 euro, a cui si aggiungono i 900.000 euro di interessi per il mutuo acceso presso un istituto di credito, nel corso degli anni è stata al centro di numerose polemiche ed inchieste giudiziarie. L'amministrazione Servalli sta cercando in tutti i modi di mettere la parola fine ad una vicenda che ha caratterizzato la vita politica ed amministrativa della città nell'ultimo decennio. Inoltre, la vendita dell'ex cofima sarebbe un vero e proprio tocca sana per le casse dell'ente, che versano in una condizione non proprio rosea.